uno spettro si aggira tra di noi lo spettro del divieto burocrati influenti si sono qualizzati in una caccia all'estremo contro chi si concede un momento di piacere, una pausa, un po' di relax guardati intorno, non permettere che il divieto ti prenda senza fermarlo, il censore raggiungerà anche te agisci ora, firma la petizione ferma i divieti